Avola, perquisizione domiciliare, riscontrati reati di furto di energia elettrica e ricettazione, denuncianti tre avolesi. Nella mattinata di ieri, gli agenti del commissariato di Avola hanno denunciato per reati di furto di energia elettrica e ricettazione tre uomini di 64, 33 e 28 anni, tutti avolesi. L'attività condotta dagli agenti permetteva di rinvenire a seguito di una perquisizione domiciliare a casa dei denunciati e svariato materiale di provenienza furtiva. Nello specifico, una moto da cross competizione KTM 125 è perfettamente funzionante, un telaio appartenente ad una Honda CRE 250, abbigliamento sportivo e vari accessori da motocross. All'interno di un magazzino venivano altresì rivenute anche utensili da lavoro, una motosega, un martello pneumatico e altre attrezzature varie. Poliziotte provvedevano a restituire agli eventi di diritto tutti i beni rinvenuti. Da ulteriori accertamenti, grazie anche all'intervento del personale dipendente della compagnia elettrica, era possibile accertare che gli occupanti dell'abitazione erano allacciati abusivamente alla rete elettrica.